L'articolo 26 vuole essere una lente sul concetto di diritto all'istruzione, sulla consapevolezza e vuole dare uno spazio di opportunità alle giovani generazioni per vivere delle esperienze. E come lo facciamo? Lo facciamo prima di tutto in collaborazione con gli enti presenti sul territorio, con la Fondazione Casa di Risparmio che finanzia insieme alla Fondazione Vanda di Ferdinando di cui sono presidente appunto questo progetto e con la collaborazione di altre associazioni e enti presenti. L'istruzione e l'educazione è uno proprio dei punti a cui si dedica l'attività della Fondazione Casa di Risparmio per cui abbiamo aderito con interesse, con entusiasmo. Questo consente di potenziare il progetto coinvolgendo più attori e raggiungendo più ragazzi e ha creato in questa maniera diciamo una piccola comunità educante, due fondazioni che si mettono insieme, varie associazioni del territorio che operano a livello locale e anche a livello internazionale e anche figure professionali che poi con i ragazzi e soprattutto con i più grandi avranno un momento di restituzione e di confronto per rielaborare tutto il lavoro fatto insieme. Andiamo sul territorio dell'intera provincia parlando con i più piccoli e stimolandoli a conoscere gli obiettivi dell'agenda ONU 2030 con una dinamica di gioco e coinvolgiamo oltre ai più piccoli anche le famiglie grazie al Festivalino dell'Ambiente che però questo è alla sua seconda edizione con delle passeggiate, dei laboratori e delle rappresentazioni teatrali per permettere a piccoli e adulti di conoscere la problematica del cambiamento climatico e illustrando loro che cosa possono fare con delle pratiche ordinarie del quotidiano. Poi ci relazioniamo anche con i più grandi nelle scuole superiori dove facciamo degli incontri in orario curriculare e gli permettiamo di prendere consapevolezza di quanto l'istruzione, il diritto all'istruzione sia un contributo importante per la propria autodeterminazione facendogli vedere anche le problematiche che hanno coetanei in paesi in via di sviluppo come il Kenya e lo Zambia e gli parliamo di futuro parlando anche di clima e di problematiche climatiche.